Siamo arrivati a Natale, lascerai anche gli auguri di Buon Natale per tutti i nostri tifosi. Vai! Me l'hanno fatto, te l'hanno fatto tutti. In alto te l'hanno fregato tutto, però un buchetto io lo vedo, a meno che non ti basti. Posso farlo qua? Sì, sì, giustamente, più in alto. Un bacio, un alto bacio a tutti. I nostri tifosi. Ed ora c'è il cambio della guardia perché con il rosso arrivano gli auguri di Natale. Invadi dove vuoi e fai gli auguri a tutti i nostri telespettatori di sottorete. Tanti auguri a tutti. Sì, ciao. Let's go. Bene. Feliceremo Natale. Feliceremo Natale. Al Palazzetto. Al Palazzetto, di fatto sarà Santo Stefano al Palazzetto. Noi pure il giorno di Natale. Ah, ecco, quindi c'è il dente avvelenato perché il giorno di Natale voi siete lì. Gli istituti. Vabbè, però ci scambiamo i regali, quindi sta. Molto bene. Allora, autografo della nostra proposta, Grazie a tutti.